Ci vediamo quindi presto a Milano per celebrare la maglia e poi, come sempre, tutti i giorni qui alla stessa ora. Il Brigante esce dalla casa. Go, finish. Bene. Com'era, save? Buona maglia. Buona? Buona. Eccola qui, che spettacolo che è. Ancora non ci credo che avrò l'onore di giocare a calcetto proprio con questa maglia. Chissà la faccia che faranno i miei amici. Me l'hanno mandata per il tour che stanno facendo per supportare la nazionale. Mi toccherà cantare l'inno prima di iniziare a giocare. Alla fine non è importante quale sia il campetto o la partita che stai giocando. L'agonismo e la voglia che devi mettere in ogni azione è sempre la stessa. Ma ciò che conta di più è il rispetto che tu nutri per il tuo avversario. Fair Play non è solo una parola, ma un modo di giocare. Alla fine. Alla fine.